Si moltiplicano anche in Veneto le iniziative per favorire l'integrazione dei richiedenti asilo. In provincia di Rovigo, a Bosaro, la cooperativa Porto Alegre ha creato una vera e propria squadra di calcio. Davide Piriocos. Maglietta bianca, calzini rossoneri e una tifoseria che sa farsi sentire. L'integrazione passa anche da qui, dal campo sportivo di Bosaro nel Polesine, dove i ragazzi del Porto Alegre, squadra di calcio formata interamente dai richiedenti asilo dell'omonima cooperativa, giocano contro gli avversari della pizzeria Etna di Rovigo. Il campionato è quello amatoriale organizzato dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, 44 piccole società divise in quattro gironi. Il calcio è un linguaggio universale per cui tutti si sentono capaci e in grado di seguire questa attività sportiva. Nei lunghi mesi, in attesa del permesso di soggiorno, la noia è spesso il nemico più grande e lo sport dà un senso alle giornate. Questo campo qua vede appunto l'impegno dei ragazzi che oltre appunto a giocare vengono anche qua due volte a settimana per la manutenzione del campo. Nel campionato UISP tutte le squadre annoverano giocatori extra comunitari, ma il Porto Alegre riunisce africani da moltissimi paesi. Senegalese, Gambia, Nigeria e come si chiama, Mali, tutti differenti squadre. Lo sport è sicuramente un antidoto, è sicuramente una strada importante per evitare le polemiche, per far sì che i ragazzi si divertano e soprattutto siano occupati in attività lecite, in attività comunque importanti per loro e anche per la comunità.